Hashtag Taranto deve volare, si sentono discriminati. Diverse le richieste di volo dai per la città delle ceramiche. Quello del Comitato Pro Aeroporto Taranto-Grottaglie è un intervento trasversale, dicono in conferenza stampa, definendo la situazione al collasso. La situazione dell'aeroporto e dei collegamenti su Taranto aerei è al collasso, totalmente al collasso. Noi siamo stati ulteriormente discriminati, ribadisco, perché la politica dei trasporti regionali punta a potenziare il solo Adriatico, mentre Taranto con il suo aeroporto punta ad essere hub aereo del Mediterraneo. Abbiamo richieste dalla Basilicata, dal Nord Calabria, che desiderano volare da Taranto-Grottaglie. Anche in vista dei giochi del Mediterraneo, Taranto deve essere riconosciuta, sostengono, anche grazie al suo aeroporto. Per i giochi dell'invernale di Cortina-Milano sono stanziati soldi per volare a Milano e persino per la costruzione di un aeroporto, ribadisco, la costruzione di un aeroporto a Cortina, che non esiste. Invece nel caso di Taranto-Grottaglie non solo esiste un aeroporto di tabella A nazionale al massimo livello, ma gli viene impedito l'utilizzo o la programmazione di nuove rotte in vista dei giochi del Mediterraneo.